Hi Gingers! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale! Questo video non era in programma, ma stamattina stavo un po' bazzicando sul mio canale YouTube e mi sono accorta che il mio primo ed unico Ask Amber risale tipo a due anni fa, ad un'estate, mi sembra sì di due anni fa, e ho trovato una cosa veramente imbarazzante. Anche perché, specialmente nell'ultimo periodo, mi state mandando tantissimi messaggi in posta privata facendomi tantissime domande sui capelli, spiegandomi la vostra tipologia di capello e che cosa potete fare per migliorarla, oppure andate a chiedermi delle cose un po' più personali o delle cose che vi interessano, che magari io vi accenno all'interno dei miei video ma poi non sto a sviluppare gli argomenti e quindi poi giustamente mi fate delle domande per chiedermi spiegazioni. Quindi ho detto, ok, prendo la telecamera e giro subito un mini video. Ho quindi intenzione di fare un altro Ask Amber dove risponderò alle vostre domande, alcune delle vostre domande, quindi sotto questo video lasciatemi come commento l'hashtag Ask Amber e lasciatemi scritto qualsiasi cosa che volete sapere dalla cura dei capelli a qualcosa di più personale, a quello che vedete all'interno dei miei video o quello che volete, così almeno evito di rispondervi all'interno dei messaggi privati che rimane un po' più lunga la cosa perché magari devo scrivervi delle pergamene per spiegarvi delle cose quindi faccio direttamente che fare un video dove rispondo a tutte le vostre domande così almeno parlo e ci metto molto meno e poi sapete che a me piace fare questi video un po' chiacchiericci davanti alla telecamera dove parlo del più e del meno e quindi se posso rispondere a delle cose che mi incuriosiscono mi fa piacere, ecco. Quindi niente ragazzi, sotto nei commenti lasciatemi l'hashtag Ask Amber fatemi qualsiasi domanda, vi ricordo che mi trovate su Instagram, su Twitter e su Facebook all'interno dell'info box trovate tutti i miei contanti e appena ho un pochino di domande ne sceglierò alcune e realizzerò il video Ask Amber quindi vi mando un bacio gigante, grazie per aver guardato questo video spero mi farete un po' di domande perché io voglio un po' di parlare e quindi ci vediamo al prossimo video Ciao Gingers!